Ah, che palla, devo andare a prendere il pullman, non ho la minima voglia di andarci, dai andiamo. Aspetta, 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 ti ho portato la tua merenda, dove cazzo credi di andare? Ti ho postato merenda, dai, mangio, dove, non riesco a girare, aspetta, ti ho portato la tua merenda, ah grazie mille amico mio, che cosa sta succedendo qui? Oggi, cosa sta succedendo, sono da Blaze, oggi parleremo della segale e della sua importanza nelle materie, allora praticamente oggi parleremo di questo, questo, ah senti che due coglioni, mi sono rotto le palle di questo qua, allora parleremo di questo, porco Dio cosa sta succedendo, e anche oggi è finita questa giornata, ah sono tornato, ehi ciao Billy, com'è andata oggi? Ah il mio cucciolino, tutto bello lui, tutto bello, porco Dio cosa sta succedendo? Pio Dio! Pio Dio! Pio Dio! Grazie a tutti